Sportività, lo sport è vita, è il titolo della serata in programma venerdì 31 marzo alle 20.30 al Cinema Cristallo di Castione della Presolana. La serata è organizzata dal capitolo BNI Presolana. Che cos'è BNI? BNI è l'acronimo di Business Network International, l'organizzazione più vasta e di successo a livello mondiale di scambio di referenze. Ogni capitolo BNI è composto da imprenditori, professionisti, commercianti e artigiani di una certa area territoriale. All'interno della stessa può aderire una sola figura per ogni professione, quindi non c'è concorrenza ma tanta collaborazione. E abbiamo deciso come capitolo Presolana, che ha sede a Fino del Monte presso l'Hotel Libia, di organizzare un qualcosa che vada al di fuori del business, al di fuori dell'aspetto lavorativo, delle referenze, delle testimonianze o delle nostre metodologie abituali di lavoro che svolgiamo il venerdì mattina dalle 7 alle 9 abitualmente, abbiamo organizzato Sportività, lo sport è vita. Un evento che si terrà appunto venerdì sera e vi aspettiamo numerosi, soprattutto ragazzi, adolescenti e giovani, ma anche genitori ad accompagnare, perché con lo psicologo Roberto Benis, con l'imprenditore sportivo Roberto Bogazzi e la nostra presentatrice d'eccezione che sarà Elisa Cucchi, tratteremo tante tematiche e ascolteremo diversi sportivi delle nostre valli con delle fantastiche testimonianze sulle loro esperienze legate proprio all'ambito sportivo. Ci sono anche ospiti d'eccezione? Ebbene sì, abbiamo invitato e accolto l'invito Davide Bendotti, atleta paralimpico, ci tiene a sottolineare, originario, residente e per sempre lui vivrà a colere in Val di Scalve. E poi avremo anche l'ex atleta del ciclismo Marco Serpellini di Sovere.